È un bando che è dedicato a sollecitare quei giovani che hanno un'idea imprenditoriale e vogliono provare a svilupparla e quindi gli viene data un'occasione per provare a farlo. Il bando si chiama AIGO, impresa giovani occupazione ed è finanziato da UPI nazionale, quindi dalle province a livello nazionale sulla base del bando azione province giovani 2013. Probabilmente sarà anche una delle ultime iniziative sul settore delle politiche giovanili che faranno le province a livello sistemico in tutto il paese. Il bando si propone di creare dei percorsi professionali autonomi per le nuove generazioni, dare delle occasioni di formazione e alla fine creare un'occasione anche economica. Possono accedere, mi sembra, solamente tutti coloro che sono sotto i 35 anni? Sì, l'età compresa è tra i 18 e i 35 anni e si prevede un percorso di formazione di 80 ore al termine del quale una serie di idee saranno selezionate e scelte per un finanziamento di 1.900 euro. Un piccolo contributo ma in tempi di crisi può fare la differenza per far partire una start-up dedicata appunto a un'attività imprenditoriale giovanile in un territorio il nostro che nonostante non abbia problemi di disoccupazione come c'è a livello nazionale, insomma di oltre il 40%, ma comunque sulla disoccupazione giovanile ha delle statistiche che ci dicono che siamo intorno al 16-17%. Per cui c'è da lavorare molto su questo fronte dando delle occasioni ai nostri ragazzi.